Quest'edificio di Shlomi è uno di quelli danneggiati dalla pioggia di razzi che è caduta questo giovedì sul nord di Israele. Almeno 34 razzi lanciati dal Libano. Come mostrano queste immagini, 25 sono stati intercettati dal sistema antimissile Steel Dome, ma alcuni sono finiti su zone residenziali. Ci sono diversi feriti lievi a causa delle schegge. Nonostante la provenienza dal Libano, le autorità israeliane hanno accusato le milizie palestinesi di Hamas. Gli Stati Uniti non hanno tardato a intervenire in difesa di Israele. La tensione è massima sulla linea di confine dopo il più grande attacco missilistico dal 2006. Le sei.